Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige TV e benvenuti in una nuova edizione di TG Daily. Vediamo la prima pagina del Deliverone quotidiano multimediale che arriva ogni sera via email, via whatsapp. Vi ricordo è gratuito, basta iscriversi. C'è anche il canale Telegram. Trovata una giovane morta a Vigasio. È tutto da chiarire il mistero sul ritrovamento del corpo di una 26enne nelle acque del fiume Tartaro a Vigasio. Non ci sono segni di violenza ma non aveva acqua nei polmoni. Sembrerebbe da escludere il gesto volontario. Allora vediamo l'articolo sul sito deliverona.it. Ritrovamento shock a Vigasio nel Tartaro. È stato recuperato il corpo di una giovane donna le cui circostanze della morte sono da chiarire. I carabinieri hanno identificata in breve tempo. Si tratta di una 26enne originaria di Mantova. Secondo le informazioni fin qui notte nei suoi polmoni non è stata trovata acqua per cui non si sarebbe gettata volontariamente nel fiume. Tutte le ipotesi investigative sono al momento al vaglio degli investigatori. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore della ragazza sul corpo. Non sono stati rilevati segni di violenza fisica ma è stato trovato completamente senza vestiti. Il ritrovamento avvenuto in un punto in cui è stato bloccato il corpo dalle griglie del canale. Proseguiamo con le notizie dal daily ancora cronaca. Caballon veronese auto a fuoco e disagi sulla strada provinciale 31. Un'auto è andata a fuoco durante la marcia sulla provinciale 31 in località Villa fra Caballon e Bardolino. Nessun ferito ma la strada è rimasta chiusa durante l'intervento dei pompieri. Politica, chiusura e sanità. Bigon del Partito Democratico. In estate non ci si ammala? È la domanda retorica ovviamente provocatoria. La consigliera regionale del Partito Democratico, Anna Maria Bigon lamenta per la sanità veneta. Chiusure di servizi in estate effetto e causa anche delle dimissioni del personale. E sul fronte di Forza Italia invece c'è la scelta di Flavio Tosi di andare al Parlamento europeo liberando un posto a Montecitorio, la Camera dei Deputati, per l'ex sindaca di Bussolengo Paola Boscaini. Una mossa in particolare che riguarda anche la politica locale perché lo sappiamo Tosi non lo ha nascosto. Punta alle regionali del 2025 e o al comunale di Verona del 2027 come candidato di punta o comunque come coordinatore regionale di Forza Italia e quindi una mossa che guarda appunto a Bruxelles, a Roma ma anche e soprattutto forse al territorio locale veronese. Andiamo proprio in provincia quindi con due notizie che riguardano il recupero di rifiuti nel lago. Oggi si è tenuta a Bardolino la quinta edizione della manifestazione Lago Pulito che ha permesso di recuperare circa sei quintali di rifiuti abbandonati e sensibilizzare al rispetto nell'ambiente. I sub appunto provenienti da tutto il Veneto ti sono gettati nelle acque del lago per recuperare di fronte al paese vari rifiuti, appunto sei quintali quasi, copertoni, sedie, caschi, batterie e quant'altro, bottiglie ovviamente. Un gesto anche per sensibilizzare perché ce n'è bisogno. Infatti a Sant'Anna d'Alfaedo invece in una strada secondaria della frazione di Corrubio sono stati trovati dei rifiuti abbandonati, scarti di potature, materiale ferroso e da cantiere si cercano i responsabili anche con le telecamere. L'amministrazione comunale chiede di segnalare chi sapesse qualcosa e dice rimaniamo vigili contro l'inciviltà. Questo è il messaggio del comune di Sant'Anna. Minerbe, il Real Minerbe piange il dirigente Simone Castiglioni, il funerale sarà domani a Bonavigo, domani mattina alle 10 a Bonavigo. Lunedì appunto l'uomo era rimasto in ospedale diversi giorni dopo un malore, un infarto avvenuto qualche giorno fa appunto e purtroppo è deceduto e domani si terranno i funerali. Autovelox a Verona, ecco dove sono dall'8 al 14 luglio. Andiamo sul sito dei liverona.it a vedere dove saranno come sempre la polizia locale di Verona, fa sapere in anticipo, dall'8 al 14 luglio saranno in via Berardi, via Turbina, via Fabricato Scolastico, via Quinzano, via Belfiore, via Forte Tomba e poi come sempre la postazione fissa dell'autovelox in tangenziale nord. Questi sono invece gli autovelox, quelli mobili che vengono posizionati in queste vie nelle varie giornate da parte della polizia locale. A Verona arriva MetaFood, l'evento alla scoperta dei supermercati di domani. Giovedì 11 luglio un evento organizzato, gratuito, organizzato dal Verona AgriFood Innovation Hub nella sede del Vecomp Academy. Protagoniste anche tre start-up che hanno sviluppato soluzioni innovative. Nelle pagine dello sport tornano in campo a Verona gli ex della favola Chievo. Chievo Verona celebra la sua storia e la sua rinascita con una giornata insieme alle leggende che hanno costruito la favola della squadra della Diga. Appuntamento al Pianini Center sabato 20 luglio nel pomeriggio. Non sono ancora noti i nomi delle leggende della Diga che saranno in campo, però appunto si prepara questa giornata significativa a poche settimane dalla riacquisizione del marchio Chievo in una squadra di calcio attiva perché purtroppo il marchio era rimasto fermo per un paio d'anni. Ancora Caldiero confermati, Capitan Zerbato e Baldani. Due pezzi da 90 della squadra che ha conquistato la promozione in serie D e ora in serie C restano il calcio Caldiero Terme, Lorenzo Zerbato e Nicolò Baldani, ancora gialloverdi. E sempre in serie C sponda Legnago, per l'attacco arriva Alessandro Rossi, attaccante classe 97, è stato il capitano della primavera della Lazio e negli ultimi anni è andato in prestito a varie formazioni fra A, B e C. E poi c'è anche una nota del Legnago su una multa e sulle inibizioni che sono arrivate ai dirigenti del Legnago. La società chiarisce, è stato un mero ritardo nella presentazione di un documento, c'è una sanzione pecuniaria appunto, però dice Legnago non c'è nulla da temere. Arrivano i Pù a San Giovanni Lupatotto, mercoledì 10 luglio, la visita in occasione dell'intitolazione della Sala Musica di Casa Novarini a Valerio Negrini, batterista e fondatore della band. L'appuntamento è per mercoledì 10 luglio, alle 18 l'intitolazione, ci saranno appunto i quattro membri attuali dei Pù, Dodi Battaglia, Robi Facchinetti, Riccardo Fogli, Red Canzian, a presentare l'evento Daniele Battaglia, figlio di Dodi e conduttore radiofonico, e poi tanti altri personaggi della musica, i parenti di Valerio Negrini, la moglie e le figlie, e insomma una grande serata che poi continuerà con la musica al Parco dei Cotoni alla sera, con un tributo proprio ai Pù. E c'è oggi e domani ancora il Festival Riflessi del Garda, stasera la danza della scala e domani musica. Continuano le serate al Lido Campanello di Castelnuovo del Garda, il Festival poi proseguirà alla Zise dal 12 al 14 luglio e conclusione al Santuario del Frassino di Peschiera il 20 luglio. E poi come sempre trovate sul daily anche i consigli su cosa fare a Verona e provincia domani lunedì 8 luglio. Con questo si chiude l'appuntamento di oggi con i TG Daily, vi ringrazio per averci seguito, buon proseguimento con Radio Adige TV e tutti i canali per una network.